Amministrazione comunale e associazioni del territorio insieme per accendere il Natale. Accade a Busto Arsizio dove è pronto il lungo calendario di iniziative per celebrare le feste, coinvolgendo adulti e bambini nel segno della tradizione. Abbiamo deciso quest'anno, in collaborazione con loro che costituiscono il tavolo identità, di realizzare una mostra dedicata al Natale di una volta. Si intitolerà Uldi Natal, sarà ospitata nella sede di Palazzo Cicogna, la nostra pinacoteca, la sede delle nostre raccolte civiche e sarà una sorta di immersione nella storia del Natale a Busto Arsizio, con la ricostruzione di spazi interni delle case di una volta, con gli oggetti di una volta, con le poesie che venivano lette dai bambini e con tutto ciò che di originale i componenti delle associazioni culturali sono riusciti a recuperare. Hanno aperto gli armadi, hanno aperto le cassapanche, le cantine, i vecchi ricordi sono riemersi e saranno in mostra e sarà un Natale parallelo, un Natale all'insegna della storia e della tradizione locale.